Si tratta di un incarico delicato e complesso e cercherò di assolverlo come ho sempre fatto sino ad ora sicuramente con impegno e grande senso di responsabilità. Ma porto nel cuore l'esperienza di prefetto di questa provincia. È stato il mio primo incarico e l'emozione forte che ho vissuto in questo territorio sicuramente è stata legata e legata al fatto che è la mia prima esperienza di prefetto. Ma non vi nascondo che farla qui in questo territorio ha assunto un significato diverso. Ho trovato una comunità accogliente, coesa, ho trovato grande collaborazione da parte degli enti locali, dei sindaci. Li ho avuti sempre al mio fianco, abbiamo lavorato in grande sinergia, con grande rispetto dei ruoli ma sempre sulla stessa lunghezza d'onda, avere sempre davanti l'obiettivo di perseguire i fini pubblici, il bene della collettività. E così come ho avuto sempre al mio fianco i rappresentanti delle forze dell'ordine siamo stati una famiglia coesa, forte, sempre determinata a riaffermare i valori della legalità in un territorio comunque sano, ci tengo a dirlo sino ad ora, che è un territorio veramente sano che va preservato, custodito di fronte alle tante minacce che ovviamente ci sono alle nostre porte e che sono facilmente immaginabili. Ringrazio tutte le amministrazioni sino ad ora, le amministrazioni dello Stato con il quale ho creato da subito e grazie anche alla loro disponibilità, un rapporto di profigo collaborazione ringrazio ovviamente i miei collaboratori più stretti, il personale tutto, i dirigenti porterò sempre nel cuore questa esperienza, sempre con, sicuramente con qualche rimpianto con un po' di nostalgia, però anche con il proposito di ritornare in questi luoghi e con piacere e con affetto. So che lascerò tante persone che mi vogliono bene e quindi io credo che i legami personali possano rimanere anche all'ilà del nostro percorso e delle nostre scelte professionali.